sono tirati tutto in un bar arrivo tutto il primo facci porre uno e due sono tirati un po' Grazie a tutti. 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 Oh, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continuiamo. ... Grazie a tutti. ... 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 Grazie. Grazie. Quella di calzone? Ok. La pasticcia la metto sopra, vedete io. No? Sopra viene speciale. Vedete di me. Metto quelle due fette di pancetta. Sopra. Oggi è meglio che non si brucia. Sopra. Tutto il tempo. Per quello di porta pietri. Il calzone. Il pancetta. Non ci vuole. E' un piaccia che controllo della dettita. Io. Grazie. 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 Adesso lo sto impornando, eh. Oh, cinque. Grazie. C'è la scaretta? Ah, sì, sì, vai, vai. Vai, vai, vai. Guarda qui. Guarda qui. Senatore Mantriatro. Grazie. Ecco. Un pezzo di calcio. Un pezzo aumentiamo sui carri, La seconda perdita sta puffando la pasta insieme a grale qui all'andaking. Sperre qualchezing Cube di attoressa attire quite all the time. Hai hai il centro di calcoli che danone. Esatto in piedi di calcolo. Buon posto che mi fa c'è un centro di calcolare. Grazie. 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 Ciao, carissimo, buonasera. Ciao. Tutto ok, grazie. Sei tornato? Eh. No, no. Ti piace troppo Correggio? No. Guardate che è nato io mio figlio. Solti da via in casa. Ah, hai visto? Bravo, bravo. Un prezzino, un prezzino. Io tu mi and吃 below… Ecco... Cosa c'ha? Cosa c'ha? Allora, se iniziamo a fare… Vio cór, no. Facciamo davanti, davanti. Se tratta di complicato questo. 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 Grazie. 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 Ciao, buonasera. Ciao, buona sera. Ciao, buona sera. Sento. 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 Adio. Non sono geloso, però... Qua, per le pomiglie, qua. Per le pomiglie, qua. Per i palini, il pastello. No, non so se le stelle... Vedi un miele secco, vedi qualcosa? Non è come il regno, è come il regno, è come il regno, è come il regno. Non è come il regno. Non è come il regno, è come il regno. Non 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 è come il regno. regno. non è come il regno. non è come il regno. Grazie a tutti. Grazie. 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 Buonasera. Eh? Sì, sì, ce l'abbiamo. Ti sei posto? Però vai sentarlo, l'ho mandato alla pensione da. Sì. Vai, Franco. Franco. Vai, Franco. Via oggi, per favore. Via qua. Buonasera. Grazie, Franco. Buonasera. Sì. Buonasera. 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 Grazie. 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 Oh, signor Nobili. Come sto io? Come stai? Come sto io? Come sto io? Come sto io? Ehm, come sto io? Ehm, mio ex-collega. Come sto io? Come sto io? Grazie. 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 Adesso un po' di origano, un po' di origano, un po' di origano. 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 Oh, ma questi 40 anni sono così? Tu ti ricordi quanti anni fa? Grazie. 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 Come diciamo se metto un po' nel palo. Un degno è un normale. Un degno è un normale. Sì. Quattro e in sei, Lorenzo. Quattro e in sei. Quattro. Quale è stato? Che è tutto il risultato? Prossimo. Prossimo. Il pizzo ferme posso fare? Cappanna tre. Cappanna tre. E. Votato qua. E. E. Grazie. 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 Silvano! Silvano! No, no, dentro. No, no, già ho scritto. Hai già marcato? Già ho scritto. Ma lì c'è la macchina? Silvano, già ho scritto. Ehi, ma che lo capisci. Becci. Che fa? Glutti. Ehi, ma che ne vedi. OK. Un pezzo. Fa, c'è. Ehi. Torni. Grazie. 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 Adesso fa il libido di stibili, poi il libido di stibili, poi il libido di stibili. Ma lo riempisci già. Ti fatto? No. 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 un uno o due? un due berline? un due berline? un due berline? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Mi riesci a farlo subito però. La memoria va da sopra. Questa qua è un calzone qua, il fasciutto è fuori. Lì dentro, perché vuole ci metti i salsicchi? Non voglio andrattarti. Non voglio andrattarti, non voglio andrattarti. Grazie. Mi riesce a stagione, non voglio andrattarti, non voglio andrattarti. Ti augmente, vedi un calzone. Muanni, vedi un calzone qua, poi vedi un calzone qua. Ti non veloce. Quindi, tu la metti, non veloci. Grazie. 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 ecco 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 ehi direttore ecco ecco Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, aspetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.